Nonostante il tempo non sia stato dei più elementi, comunque la gente si è vista e è stata presente alle iniziative che hanno messo loro a disposizione. Speriamo che il prossimo anno ci sia una notevole partecipazione, anzi forse maggiore, aspettiamo anche più bancarelle dagli altri paesi. Quindi vi aspettiamo numerosi e alla prossima edizione del mercatino di Unolao 2015.